Mamma mia sembravo che uno zingaro Nuova puntata di Goal Rush In questo video voglio comprare delle cose nuove E sto andando a vendere L'oro, i due chili e mezzo Che valgono Centomila euro Dollari Allora dai, due chili e mezzo Costo, minchiamini Dai via subito in banca Ma nooo Novantottomila Non è male Non è male Adesso Adesso mi faccio un giro dentro Qui per vedere cosa c'è di interessante Allora Sì Rimorchio grande No Rimorchio grande Cosa cazzo serve? Vabbè Questo anche Sì sì anche questo Poi Una pompa Un generatore nuovo Questo qui Tavola di lavaggio Bene Un po' di tubi Direi che Boh Posso andare A buttare via i soldi Alla fine solo 10.000 A buttare via i soldi Ecco su qui Ce lo faccio stare Dai Ma che cosa abusiva Da zingaro Allora Mi porto via uno Direi questo qui Quello del gasolio Subito fare il pieno Ma Mi sembra venuto Uno zingaro Vabbè Già che ci sono Pieno a tutto Ne manca uno Quello là Ecco Ok Adesso Che questo qui Mi sembra così Mille litri Retro abusiva Su qui Non lo so Che cos'è Che palle Guarda che c'è C'è da fare Un bel impiantino Vabbè Allora Questo qui Quello lì Giallo Blu Lo metto qui Vicino all'acqua Così Diretto Qua Dentro non posso Oh sì che posso Però non ci vuole l'acqua Lo metto qua Magari così Magari così Magari un po' più in piano Tipo qua Bene Ok Adesso attacco La pompa Attacco qui La tolgo qua Recupero un po' E l'aggancio qua L'acqua c'è La corrente no Bene Tanto qui lo tiro ancora un po' Ok Lì Adesso il generatore Qua Con la presa piccola L'ho preso Spero Ah è qua Ah beh Che va da qua A qua Perfetto Bene Benzina c'è lì A posto Ok Lo lascio lì Dai che le due palle Questa che è piena Pugli vicino questi due Che così non devo correre come uno scemo Qua Ecco perché Non me lo fa agganciare Ma no cazzo no Dai Staccalo Che due coglioni Oh Allora intanto faccio il rifornimento Allora stai lì Più questa roba Qusi Qua Qua Perfetto Qua secchi vuoti che non mi servono questo qua lo lascio qui e lo lascio qui ma non ho il filtro che vado a prendere adesso però qui possiamo guadagnare ancora un po' di spazio poi questa fino all'impianto che non ci arriverà sicuro ora lo allungo con questo da qua fino all'impianto è adesso con l'affare lì che sta in mezzo attacco doppio non so come si chiama no vabbè attaccalo beh fino all'impianto ok si può continuare no no il filtro sto andando a prenderlo subito sono il tuo miglior cliente devo dire allora filtro però volevo anche qui su qui così mi porto via anche il il rimorchio lì ok agganciato per non rischiare magari non è abbastanza lungo me ne prendo un altro e questo qua no così non rischio niente non rischio non rischio non rischio si non è all'imitero non rischio non rischio non rischio A presto. Ok, faccio venire il giorno. Così lavoro meglio. Ok, si sono presi... 12.000. Accendi, accendi il mostro. Lo metto giù qua. Lo metto giù qua. E spengo, ok, basta. Per andare da qui... Non ci arriva, infatti ho fatto bene. Da qui. Non ci arriva, non ci arriva. Figlio di trovare il suo post. E adesso posso accenderlo. Boh, si continua a scavare. Ah, è già il secchiello. Pieno. Pieno. No. Questa merda. Via via. Aspecchiamo tra un po'. Questa merda. Questa merda. Questa merda. Grazie a tutti. Ok, stoppo. Prendo questo che è pieno. Lo verso. Questo schifo di... ...coso qui. Che lo trasforma... ...in omano. Ok, no. Divide l'oro dalla porcheria. Questo, secchio di sporco, va lì. Quello d'oro va lavato con un pianto blu. Faccio ancora un secchio... ...e poi vado a lavare tutto. Ok, 100% dell'ultimo secchio. Allora, lo verso. Poi non ne ho più. Però lo metto subito sotto. Ok, spengo tutto. Allora, questo è quello buono. Sì, ce n'è poco però. Vabbè. Questo è qui. Lo rimetto. Poi vado a lavare tutto. Col nuovo impianto. Ok, adesso. Non l'ho mai fatto. Quindi. Così. Devo accendere tutto. E l'acqua. Ecco, eccolo che sale. Quanto oro. Mamma, che figata. Un chilo e mezzo già. 3,6 kg. Finito. 3,8 kg. Allora. Spengo. Spengo tutto. Direi che il video finisce qua. Commentatemi. Qualche idea di cosa fare nel prossimo video. E... Ciao. Al prossimo video. 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 Grazie a tutti.